Buongiorno amici, oggi andiamo a vedere un piccolo tips per iOS su come aggiungere delle abbreviazioni che ci consentiranno di risparmiare del tempo quando andiamo a comporre dei messaggi, a scrivere delle mail, eccetera. Allora, andiamo subito a vedere come fare, quindi andiamo su impostazioni, diciamo dall'inizio, generali, tastiera, abbreviazioni. Come vedete ho già fatto delle prove, ho aggiunto delle abbreviazioni. Per aggiungere una nuova abbreviazione basta andare su più e qui dovremo digitare la frase che vogliamo inserire nel nostro testo, quindi potrebbe essere anche un'email, quindi un'email che utilizziamo molto spesso, quindi quando ad esempio andiamo a compilare dei form in cui dobbiamo inserire magari come user ID la nostra email, senza digitarla tutte le volte possiamo inserirla come un'abbreviazione. Potrebbe essere per esempio. E come abbreviazioni possiamo utilizzare ad esempio il simbolo dell'email. che sarebbe questo. Facciamo salva. A questo punto se noi andiamo a digitare un testo e vogliamo aggiungere l'email non ci resterà che comporre tre volte la chiocciolina ed ecco che l'email è stata aggiunta in un attimo senza dover stare a comporre tutto. Bene, un semplice tip, spero che vi sia stato utile, magari a molti non sarà utile, a qualcuno sì, a chi è stato utile ma anche a chi no, vi invito a mettere un mi piace a questo video e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao amici! grazie 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 grazie